Dunque, cominciamo dalla sezione A, poesia, partendo dal terzo premio, il secco, il largo parlanti desiderò di sognare. E con il secco di Ziana Monari c'era una volta nella mia città. Ecco, tutti e due passano vicino. Di l'aria parlanti, il desiderio di sognare. Arriverà il giorno in cui sorriderò. Arriverà il momento più felice, atteso, liberatore della vita. E io sarò felice e condividerò la mia gioia con il mondo. E il mondo sorriderà, riderà, mi abbracerà, gioirà con me. E tutti sorrideranno, dimenticheranno di solo, di solo, di male che ti afficcono, scompareranno, come per magia. E ci prenderemo per mano, come se fossimo fratelli, uniti da un legame indissolubile. E ci guarderemo come se ci conoscessimo da sempre. Poi, all'unisono, fideremo alla Cielo, all'esterno e all'universo, la nostra felicità per l'invernità. Ma poi, sopraggiunge la realtà che ci circonda, ci ricorda chi siamo. Ci ricorda che il mondo non è solo il mondo di pace. Ma l'unica cosa che non ci può portare via, nel nostro lavoro, il sabito del cuore, che non ci può portare via neanche la morte, è il desiderio di sognare. È il desiderio di sognare. Sì!